Ma sbaglio oppure un po' in ritardo la live, sì, perché qui c'è Idunet che va e viene, è come il treno, viene una volta sola No, no, infatti, ragazzi, quando siete in vacanza state sempre attenti a queste situazioni, non fidatevi mai di nessuno E basta Estetica? No, 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 non sappiamo dove, non sappiamo dove No, 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 ma che, eh, non mi toccareughi Oh, dai un bacio, cazzo È ermine, è noso questo, eh Dai, questo cazzo è bacio No, oh, sta zitto, è ermine noso, dice È statica, è noso Oh, cazzo è statica, eh, ho fida tu, ho cazzo proprio, questo è ermine noso Oh, ma che cazzo vuoi, è er naso mio E' consumato Ne dio eh Ne lo rinno Ne No, è er cazzo mio Eh Non so, è er naso mio, ma che ti dì, ma tu sei tutta matta è incredibile che non parlate una lingua in comune sono due ore che parlate no no, è un naso mio, fidate da qui in Zegasca no no, io stai dicendo qualcosa che cosa? si è un bel naso ok, ok, è un naso mio perché dicono ban, 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 che cazzo hai detto ci stanno a cazziare ok, Willy, leva tutta siamo dei livelli, siamo dei livelli pull up, pull up, oggi sta pull up all'albergo no, 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 è bagnato perché è bagnato ok, ok ok, sorry ragazzi, qui stacchiamo la live ci hanno pull upato l'albergo qui è meglio no joke con nessuno questo è dove comprate su un bar perle in diretta, bellissimo sto profilo piccolissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti